Uccidino! E l'ho ucciso io! L'ultimo colpo! Bella raga! Ah, bella! E si spensero le luci Ale! Ale dove vai? Chi è? Chi è qua? Io! Bene, ok, metti qui qua, guarda! No! Bastardi! Belli campioni del mondo! Tutti e due! Gay! Ma niente contro i glicchioni, ma gli glicchioni sono più uomini di voi! E lui, dì, sì! E lui, dì, sì! Che bastardi! Che bastardi! Ma dove stavate poi? Nascosti dove? Anche la capriolina hai fatto! E volevo prendermi lo spazio per trucidarvi! Ben invitato! Ben invitato! Simo, ma non ridere! Eh, è basti! È basti! Sì, 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 sì! Vieni qua, vieni qua! Che fai? No! Cazzo! Cazzo! È mancato veramente, veramente poco, eh! È la luce del Gesù Cristo! È la luce di Dio, Ale! Infatti trasportarla dalla luce! Arriverai in... Che cazzo fai? Perché apri le porte e poi le chiudi? Che cazzo stai facendo? Perché prima l'ho ucciso lì! Entra, entra! Entra! Che ti ho detto pure che ti sto vedendo! Ih! Ih! Siamo in disco, guarda! C'è qualcuno che ti sta... C'è un agguato! Attenzione! Oh, April mi ha fatto fuori Howard! Ma perché con la luce lo uccide? Che lui è? Che lo uccide con la luce? È il Super Saiyan che è? È Junior! Dragon Ball! Ti vuole un'erogeno? È un minuto! Zitto tu! Muori! Ma no! Ma che culo! Che culo! Dario gli ha dato un colpo, eh! No, non me l'hai dato! Mi ha dato Simo! Ti non mi hai preso! Ma come? A me è uscito che ti ho preso! Assieme a Dario si sta... Urinando sotto! Dario non parla, ragazzi! Dario è un uomo concentrato! È un uomo concentrato! È come il succo di pomodoro! Silenzio! Aia! Aia! Quell'attimo di silenzio forse poteva significare qualcosa! E mi sa, e mi sa che ora il Mugi Warafa si farà rispettare! L'uomo del lag! Ma come cazzo ti vedo lagare? Sembra che sta sui pattini! Dario! Ce l'hai dietro! No, però così non vale! Sìììì! No, così... Se ha con team! ma non vale la cagliuto da cazzo l'aiuto da casa dario ce l'hai dietro e lui si gira e ti e ti torna ti non scopa grande dario grande motivo a rafa ma che grande dario grazie mille like per un cavallo ucciso in diretta ragazzi che è il manico dario simone dove sei uccidio e l'ho ucciso io l'ultimo colpo dai così l'ho rubato viga viga così godo godo simone intanto non sta giocando ma fifa simone è il mio turno questa volta solo le vostre tattiche questa volta è diversa ragazzi questa volta vi posso assicurare che è diverso ed è il primo andato simone pacello crisi di ospedali ragazzi io non so dove siete voi ma io li troverò e vi farò a pezzi vi trema il joystick eh donzelli vi trema il joystick vi trema la walla lui stai guardando trema la walla ma chi ha sparato io cambiamo con la torcia così a meno viene un po' meglio ma qui non c'è nessuno abbiamo la certezza secondo me che è più bello qui è da fare in prima persona è vero è è un troppo sconcazzo intanto adesso però è più bello mettermi più angoscia prima persona posso fare delle dei peti in diretta dove cazzo siete vediamo un minuto un minuto un minuto ma non lo sapevo mi succederà a sinistra e una destra nooo nooo sinistra e destra l'ho trovato lì no chi ha vinto 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 senza fare nulla ha vinto ha vinto ha vinto